I giganti di carta pesta del Carnevale di Fogliano, il più antico d'Italia con i suoi 483 anni, tornano a colorare la piazza del Val di Chiana Village. A sabato avremo l'uscita esterna del Carnevale di Fogliano spostandoci qui all'Outlet Village dove verranno i gruppi mascherati a fare una sfilata nella piazza dell'Outlet. Sarà anche una vera e propria sfida? Sì, sarà una vera e propria sfida perché a noi piacciono le sfide. Mentre nelle strade della cittadina sfilano i carri allegorici per questa edizione che segna la ripartenza della manifestazione, la Land of Fashion diventerà infatti palcoscenico per feste e competizioni. Sabato 18 giugno, a partire dalle 16, i corsi mascherati dei quattro cantieri, Nottamboli, Rustici, Azzurri e Bombolo, torneranno a sfidarsi per aggiudicarsi il trofeo Val di Chiana Village. È un modo chiaramente per far conoscere appunto una delle maggiori caratteristiche del territorio appunto di Fogliano della Chiana. È una festività molto sentita, molto bella, molto colorata. Quest'anno appunto è anche un po' particolare perché avviene d'estate, è una cosa unica nel suo genere. È molto particolare anche perché la potranno ammirare anche i turisti che sono molto numerosi in questo periodo, sia nell'Outlet ma in generale appunto anche nei territori qui intorno. Sempre nel Village in questo periodo è possibile anche ammirare una mostra di immagini, costumi e reperti celebrativi che compongono la rassegna dedicata al Carnevale di Fogliano e non solo. Puntiamo a tanti turisti che sono nella zona. Quest'anno questa edizione è particolarmente diversa perché è fatta completamente nel periodo estivo e quindi questa collaborazione continua col Val di Chiana Outlet Village ci aiuta sempre in questo tipo di progetti. Anche noi come associazione culturale Scannagallo siamo presenti in questa bellissima mostra. Siamo qua perché abbiamo scoperto una data molto importante. Scannagallo è del 1554 la battaglia. Il Carnevale di Fogliano da documenti sembra del 1539. Quindi sono due momenti storici molto vicini nel nostro comune di Fogliano della Chiana. Per cui in base a questo quest'anno come prima esperienza, come anno zero, abbiamo deciso insieme al Carnevale di Fogliano di fare questa specie di gemellaggio. Infatti domenica dalle 16 in poi, domenica 19, saremo presenti con sei gruppi che faranno delle danze rinascimentali.